è capito? lo devi levare dal congelatore scongelare e quando l'hai scongelato lo metti in una bacinellina col vino rosso e la cipolla, il sedano, le arote e ce lo tieni tutta la notte ma cosa? come c'è da fare un muciccianfana se che sei tornata da lavorare ora? tanto ti vai ambriada al Mauri ora è giusto vieni, quando ci si... ma lo fai? vieni, dai per te beh, ci si sente quando... fammi sapere, beh, ciao, bravo